Barese Nord. Stazione di Barese Nord. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Con immigrazione e droga una bella accoglienza, con degrado e antiveggenza. Autoerotismo di fronte alla stazione, mentre ci si fuma un bel cannone. 17 pusher che la droga Baguetto chiamavano, con gli sbirri che li aspettavano. Allora, quanto è buona la chetamina? Mela spittazzo. E poi, ci scavallano i pendolari la mattina. Spaccio il monopattino per gestire un gran trattico. Barese Nord. Stazione di Barese Nord. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Porco di mani, bro! Sto avendo un ictur. Inventi nel sottopasso, col naso che sasso scaccia sasso. Stazione di Barese Nord.